L'articolo 21 della Costituzione italiana sancisce Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pianziero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Diritto che ieri sera a Matera non hanno potuto esercitare appieno il segretario del PD, Guglielmo Epifani e il candidato del centrosinistra a governatore della Basilicata, Marcello Pittella Ieri sera a Matera erano previsti due comizi elettorali in piazza quello di Beppe Grillo, che ha potuto liberamente parlare e quello del PD, che grazie alla chiamata alle armi del comico genovese è stato pesantemente disturbato dai sostenitori grillini Una persona democratica, il giorno dopo, avrebbe subito preso le distanze dall'accaduto Invece Grillo ha deciso di cavalcare l'onda e con un posto intitolato, i funerali del PD in Basilicata ha esaltato la triste esibizione dei suoi vantandosi di come Epifani e Pittella siano stati subissati dai fischi dei cittadini lucani alla loro apparizione in piazza La domanda allora è I grillini chi sono? Sono quelli che difendono la Costituzione o quelli che impediscono la libertà di espressione? Sono quelli che vogliono cambiare la legge elettorale o quelli che votano contro, insieme al PDL, alla modifica del Porcellum? Sono quelli che stanno dalla parte degli ultimi o quelli che propongono di abolire la Cassa Integrazione? Da mesi ormai il comico genovese dice tutto e il contrario di tutto alzando sempre più la sticella dello scontro lucrando sulle condizioni delle persone che non arrivano a fine mese È il momento di dire basta a questi successi populistici antidemocratici perché la chiusura del ventennio beluscoliano non si trasformi in un nuovo periodo populistico L'Italia non ne ha più bisogno non si trasformi in un nuovo periodo